Ci sono due ragazzi che cercano di ricostruire la torre italiana e poi intanto esplode un negozio, un mercato, lì c'è la discarica, c'è un traffico terribile, lì c'è un autobus che si spezza, poi c'è la sabbia che si brucia e diventa vetro e qui sono dei carrelli di questo meccanico.